Ma ciao a tutti ragazzi e ben ritornati, ciao da quanto tempo che non vedevate le mie pelurie Allora ragazzi, questo è un video aggiornamento quindi non è un video normale Allora ragazzi come prima cosa siamo arrivati ai 20 giochi di 100 giochi nel panino, incredibile Non riesco a credere perché sono una di quelle persone che fa le cose e le finisce a un quarto Nemmeno a metà, non le lascio a metà, no le lascio a un quarto Corrà peggio Allora ragazzi io ho intenzione di fare questa cosa, essendo che abbiamo fatto, siamo arrivati a 20 giochi Vorrei adesso fermarmi un attimo e fare questa cosa, ci fermiamo un attimo E lasciamo spazio un pochino agli shorts e anche ad altri video che devo fare con Pippo Per esempio il terzo episodio di Pippo in the forest, qualche episodio, un altro video che sto editando ancora adesso Di io e Pippo e anche altri video a caso Quindi ragazzi ci fermiamo un attimo e poi dopo una settimana forse un po' di più Ricominciamo e arriviamo ai 40, ai 40 ci fermiamo, lasciamo spazio eccetera eccetera Facciamo 20 in 20, 20 in 20 fino ad arrivare a 100 che è la mia meta incredibile Cosa che ancora non lo so, ho paura di sapere se riuscirò ad arrivare Ma secondo me ci riuscirò, scrivete nei commenti, supportate, condividete il mio canale con tutti i vostri amici perché è importantissimo Quindi ragazzi dovete condividere, condividete, iscrivetevi ragazzi Per chi non è iscritto dovete iscrivervi, assolutamente Se non vi siete iscritti, voi ragazzi siete dei bassi Condividete ragazzi il canale con i vostri amici, fate iscrivere i nonni, i cani, i gatti se hanno degli account I zii, i fratelli, i amici Altra novità del canale che voglio assolutamente fare con Pippo Scrivete nei commenti, nei commenti Delle domande Sia, questi, come questi maledetti video delle domande vanno molto bene Tra i youtubers eccetera Voglio fare anch'io questa cosa delle domande Voi fate le domande che vi pare E io dovrò rispondere sinceramente Fate domande anche a Pippo Pippo non deve sapere di sta cosa eh Nessuno dica niente a Pippo eh No eh Quindi, fate delle domande nei commenti Noi, io e Pippo Devono essere tante domande Quindi fate domande Perché se no, fate domande Appena avremo raggiunto un tot di domande Farò il video con Pippo Quindi fate sia domande a me che con Pippo Quindi prima della domanda scrivete Trattino Nino Oppure per Nino Domanda per Nino Scrivete e poi oppure domanda per Pippo Attenti Beh, niente Questo era il video No è aggiornamento Quindi, siamo arrivati ai 20 giochi del panino Cosa incredibile Fantastico E mi sono anche divertito con l'ultimo episodio di Sifu Quando finirò Adesso che ci penso Che quando finirò I 100 giochi nel panino Stavo pensando anche Essendo perché sono dei video Di 100 giochi Che si prendono solo 4-3 minuti Potete scrivere Quali sono i giochi Che vi sono piaciuti di più In questi 100 E potrò portarci Magari qualche gameplay Più lungo Magari O anche qualche serie Proprio di tutto il gioco Quindi Nei commenti Di Ogni Qui Grazie a tutti.